Musica Cari telespettatori, buona serata, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti, ma come sempre la prima parte è dedicata ad approfondimenti che riguardano il mondo non solo delle persone anziane, perché sarebbe riduttivo, non solo dei pensionati, ma di tutti coloro che hanno bisogno di avere conoscenze in più per ciò che li aspetta quando avranno una certa età. E quindi come sempre il nostro partner lo SPCGL, vediamolo insieme, poi torneremo in studio, vi farò scoprire altre realtà.